Scusi, ha qualcosa per il mal di testa? Certo. Ah, Moment. Lo uso anch'io. Oggi ho più male del solito. Vuole Moment Act? Moment? Art. Io ho usato perfino maleditenti. Il mal di testa non è sempre uguale. Quando si fa sentire di più, c'è l'azione analgesica mirata di Moment Act. Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati e anche gravi. Vedo che il mal di testa è già... In un'art! Mal di testa è questione di Moment. E quando lo senti di più, di Moment Act. Da Angelini.